La Banca Centrale Europea ha aumentato i tassi di interesse di un altro quarto di punto percentuale. Il motivo è l'inflazione, ma c'è chi teme una recessione nell'eurozona. L'inflazione è scesa dal picco superiore al 10% dello scorso ottobre, ma rimane al di sopra dell'obiettivo del 2, fissato dalla BCE. I precedenti aumenti dei tassi, nove in tutto dallo scorso luglio, stanno dando i primi effetti, abbassando i costi degli immobili e gli interessi sui prestiti. Ma l'inflazione di fondo, che esclude la volatilità dei carburanti e dei generi alimentari, rimane elevata. La BCE non esclude nuovi rialzi a settembre e il rischio di recessione aumenta.